E' festa per la catena dei supermercati Simpli che oggi 4 agosto 2018 festeggia 20 anni di attività. Buongiorno, allora la generazione Spinelli. Buongiorno, buongiorno. Oggi sono i nostri primi 20 anni, oggi una data importantissima per l'azienda, per la Spisal, per i dipendenti, per la mia famiglia, per mia madre che da piccolo mi accompagnava qua e mi spiegava cosa dovevo fare, il merito sta tutta a questa donna. Volevo ringraziare un ringraziamento particolarissimo alle 50 famiglie, i 50 dipendenti che lavorano per questa azienda. Li reputo come dei soci, persone splendide che danno il cuore, che danno l'anima, le persone che capiscono un momento di difficoltà, di qualsiasi momento di difficoltà e si impegnano il doppio di quello che si sono sempre impegnati. E' un ringraziamento particolarissimo perché a volte ci sono delle difficoltà. Il 2017 non è stato un anno bellissimo, il 2018 è iniziato benissimo e l'estate 2018 con tutte le difficoltà connesse al paese sta andando veramente bene, siamo veramente felici e soddisfatti di quello che stiamo riuscendo a fare. Oggi abbiamo organizzato questa festa per ringraziare soprattutto i nostri clienti che per 20 anni ci hanno assistito, ci hanno visitato, ci hanno aiutato e ci hanno dato una mano a crescere, a diventare più grandi, a diventare più soliti e a creare occupazione, posti di lavoro e speriamo di riuscire a mantenere questo perché sarebbe un orgoglio per il paese, credo che più per la mia famiglia. Ovvio è che viviamo di lavoro e che vogliamo mantenere quello che siamo riusciti a creare in 20 anni, ovvio è che la mia più grande aspirazione è quella di creare occupazione, di dare occupazione in un momento di difficoltà del paese, dell'Italia stessa. Faccio l'augurio a tutti di credere nei progetti, ai giovani crediamo nei progetti, iniziamo a lavorare, iniziamo a pensare che ce la possiamo fare, siamo padroni di noi stessi, siamo nel 2018, ormai siamo nell'era di internet, dell'intelligenza tecnologica, aiutiamoci che non c'è una cosa che non può essere fatta, ci vuole pazienza, passione e dedizione. Grazie. Ecco, 20 anni, oggi stessa cosa per i tre supermercati sul merito più quello su Reggio di Calabria, una bova e una Reggio di Calabria, due su un merito, una bova che noi faremo questa mattina, tutte e tre faremo un tour, vediamo che già a quest'ora c'è tantissima gente, quindi vuol dire che i suoi 50 dipendenti lavorano bene, perché questo significa che il merito è anche anche dei dipendenti ogni tanto, no? Cos'altro possiamo aggiungere per questa bellissima giornata? Niente, credo di aver detto tutto, sono stato, non mi piace stare davanti ad una telecamera, parlare non mi riesce benissimo probabilmente, spero di aver detto tutto, di aver ringraziato tutti, vorrei ringraziare mio fratello, se passo un attimino solo, Achille, vorrei ringraziare mio fratello che è la mia metà, la mia metà, la mia metà, una persona a cui posso dire di poter affidare la mia vita, un bacione alla piccola mia. Buongiorno. Devi dire qualcosa? Stanchi, stiamo cercando di mettere a punto tutto per la giornata. Ma sta barba è 20 anni che ce l'hai o no? No, qualche anno, speriamo di tenerla a 20, almeno 20. Mamma non vuole 20 anni. No, vabbè. Non mi piace tanto. Vi abbiamo già detto una grande festa, questi 20 anni di festeggiamento, insomma, l'anniversario, 20 anni non sono pochi, insomma, non li dimostra, tu li mostri un po' di più, il supermercato no, è sempre nuovo, sempre aggiornato. Quasi il doppio, quasi il doppio del supermercato. Lui dimostra meno gli anni del supermercato, il supermercato li mantiene bene, c'è sempre aggiornato. La barba lo invecchia. La barba lo invecchia. Bene, ora facciamo un giro e poi si postiamo agli altri supermercati. Ok, ok. Correva l'anno 1998, il giorno 5 di agosto, quando il giovane imprenditore Nino Spinella, all'età di soli 17 anni, apriva il primo punto simbile a Tenente Mini, cui c'è a merito di porto salvo. Vent'anni di storia, un lungo cammino imprenditoriale, ricco di successi e di evoluzioni, fondato sulla tradizione avanguardia, che hanno delineato una filosofia aziendale, fedele al suo carattere familiare, ma carica di una forza innovativa, che dà luogo a una continua metamorfosi. Nel 2008, infatti, Nino Spinella, grazie al supporto dei suoi familiari e dei suoi valenti collaboratori, apre un secondo punto vendita, sempre a merito di porto salvo, in via Peppino Suffero, nel quale è stato dato spazio, oltre ai vari reparti di genere alimentari, anche ad un reparto di macereria, che, come ha voluto sottolineare il giovane imprenditore, si appoggia per l'acquisto delle carni agli allevatori locali, facendo crescere così anche l'economia di questo settore. Ed ancora nella mattinata di giovedì 13 luglio 2017 è stato inaugurato il nuovo supermercato della catena Simpli in pieno centro a Reggio di Calabria, in via Melacrino 22. Si tratta quindi del quarto punto vendita della catena Simpli. Quindi Simpli, anche a Reggio di Calabria, dal 13 luglio 2017, dopo i due supermercati di merito di porto salvo, è quello di Bova Marina, la catena dei supermercati Simpli, che oggi 5 agosto festeggia 20 anni di attività, quindi si allunga con l'apertura del supermercato a Bova Marina del terzo, e nel 2017 del quarto a Reggio di Calabria. Si tratta, come dicevamo, del quarto punto vendita della catena Simpli, che premia lo spirito di sacrificio, la costanza e la buona volontà che hanno spinto Spinella a uscire fuori dai confini di merito di porto salvo e dell'area grecanica, dove la famiglia era già conosciuta e apprezzata dalla popolazione per la serietà, l'impegno, il lavoro sul territorio da circa 50 anni. Oggi, dunque, la catena dei supermercati Simpli rappresenta una valida e crescente attività imprenditoriale con quattro punti vendita, due a merito di porto salvo, una a Bova Marina e uno a Reggio di Calabria città. I quattro supermercati della catena Simpli sono pensati negli spazi e nell'assortimento per le esigenze della spesa quotidiana, unendo la praticità, con un'offerta ricca e varia. Grazie a tutti.